Sì, facevano il Venezia-Trento via Valsugana. Ma ci faccia bello senza un'altra cosa? Sì, facevano il Venezia-Trento via Valsugana. Si, facevano il Venezia-Trento via Valsugana. Sì, facevano il Venezia-Trento via Valsugana. Ciao! Grazie 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 Il villaggio è piccolissimo Quando si vuole fare un esempio di qualcosa di piccolo Grazie Grazie E' una messa Buona volta Buona volta Sì, si fa la cittadina. Che faccia fare? Ci fermiamo! Sì, si fa la città. Grazie.